Insieme è una parola forte. Insieme si realizzano grandi cose. Kuwait Oils e Igno Yenbacher collaborano da oltre 20 anni. Condividendo l'esperienza, unendo le forze, promuovendo l'innovazione. Ora, grazie a questa combinazione efficace tra oli tecnologicamente avanzati e ingegneria di livello mondiale, Ienbacher S.O.I.L.40 si è trasformata in una realtà. Le nostre risorse dedicate, attori globali che abbinano servizio di assistenza e prodotti ad alte prestazioni, ci consentono di affrontare qualsiasi sfida e fare funzionare tutto al meglio anche nelle condizioni più estreme. Sviluppato dai nostri centri di ricerca e tecnologia, Ienbacher S.O.I.L.40 è progettato su misura per garantire il funzionamento perfetto con tutti i motori a gas non naturale Ienbacher. La tecnologia pulita di Kuwait Oils, con additivi appositamente concepiti per i motori a gas non naturale Ienbacher, estende gli intervalli tra i cambi d'olio riducendo la manutenzione, quindi prolungando la vita del motore e aumenta la durata dell'olio in media dell'80% e del filtro fino al 100%. Insieme, questi fattori positivi riducono i costi operativi totali, ottimizzano le prestazioni e la produttività e garantiscono un funzionamento del motore efficiente e affidabile. Creato da Igno, Ienbacher e Kuwait Oils per i motori a gas non naturale. Ienbacher S.O.I.L.40. Insieme si realizzano grandi cose. Grazie a tutti.